Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene, dai! Ho raccolto un po' dei gadget, delle promozioni che ci sono in questo periodo, ma principalmente vi consiglierò un po' di titoli ad Elfi, visto che ieri è uscita la notizia della promo. Dal 15 di luglio c'è questa promozione per cui acquistando due titoli ad Elfi, a scelta, tra tutto il catalogo, regaleranno una tote bag, una borsa di tela, insomma. Invece con due titoli in Audi fino al 22 circa di agosto danno lo zainetto che io ho già recuperato, quindi poi vi faccio vedere anche quello. Quindi, niente, vi consiglierò un po' di libri, ecco. Però direi di partire con una considerazione un po' abbastanza generale riguardo alle promozioni che ci sono quest'estate. Quella Oscar Vault in realtà è terminata da poco, però comunque l'ho inserita giusto per farvi vedere come quest'anno di gadget ce ne sono veramente tantissimi. Dalla borsa termica che regalano quelli di Garzanti, scegliendo fra una lista di titoli dal loro catalogo, che ho spulciato e devo essere sincera, non c'è nulla che mi ispiri particolarmente. Come vi anticipavo, lo zainetto e in Audi acquistando due titoli dal loro catalogo, qualsiasi, due titoli a scelta. Questa è una promozione che vale sia nelle librerie fisiche che online su alcuni siti, tipo IBS, mi sembra anche sul sito della Mondadori. Su alcuni siti però non è possibile scegliere il colore dello zaino, i negozi invece, a seconda della disponibilità, te lo fanno scegliere. Mi sembra però di aver capito che, ad esempio, sul sito della Mondadori c'è la possibilità di scegliere lo zaino, cioè il colore. Quindi, secondo me, bisogna un attimo spulciare per capire. E nulla, che cosa ne pensate voi di questi gadget? Sono uscite poi diverse borse di tela, ad esempio Blackie, che è la casa editrice d'estate, è sempre famosa, diciamo, per i quaderni, degli esercizi, delle vacanze per adulti, qualcosa del genere, a modi sussidiario, ecco. Loro hanno fatto questa borsa di tela con la cagnolina Blackie, insomma, il simbolo della loro casa editrice. È uscita anche la borsa in tela, o meglio, appunto, dal 15 di luglio ci sarà la borsa di tela Adelphi, in queste quattro varianti. Da quello che ho capito, anche in questo caso, non è possibile scegliere online la stampa. Sono molto carine, ma io personalmente ho talmente tante borse di tela che anche no. Erano usciti poi degli zainetti tipo a sacca, anche per il castoro, se non sbaglio, e qualche altra casa editrice, principalmente con target molto giovane, ragazzi, adolescenti, per intenderci. È una bella trovata, devo dire, acchiappa molto i lettori, che spesso sono molto collezionisti, quindi attirano e fanno gola, devo dire. Io a volte ci casco, a volte no, anche perché penso, mi serve effettivamente. Ciao Andy, buonasera Donatella e dalla sua pucciosissima chat, che carino! Grazie mille! Dicevo che a volte ci casco, a volte no, e mi chiedo, ma è effettivamente utile? Mi serve, lo utilizzerei, perché sennò fa la fine di rimanere lì in casa, inutilizzato. È un po' uno spreco, pensando anche a quante cose abbiamo in casa, di quante cose ci circondiamo, quindi non penso di essere una persona minimalista, assolutamente, però penso anche che non ci servono tante cose. Quindi, se ci sono dei titoli che effettivamente mi interessano, o c'è un oggetto che penso potrei sfruttare, mi faccio un po' abbindolare, mi faccio un po' fregare da queste promozioni, in altri casi decisamente no. Ho selezionato alcuni titoli per quanto riguarda gli Adelphi, come accennavo, vale tutto, due titoli su tutto il loro catalogo per la borsa. Io personalmente non avevo intenzione di comprare nulla per quanto riguarda gli Adelphi, e non prenderò nulla per avere la borsa di tela, però nel caso in cui qualcuno di voi fosse tentato, quello che vi consiglio io è innanzitutto l'anulare di Yoko Ogawa, è veramente un libricino piccolo, che è uscito, questo ve lo segnalo perché secondo me merita, almeno di essere citato, questo titolo è uscito anche con la collana del Corriere della Sera, ogni martedì esce infatti un titolo dedicato alla letteratura contemporanea giapponese, ed ha una copertina molto carina, è bianca con dei funghetti rossi, quindi nel caso io ve lo segnalo, il prezzo è più o meno quello perché dal sito del Corriere della Sera credo che costi circa 9,90€, questo prezzo pieno viene 10, quindi siamo lì. L'estetica di queste della Delphi non è male per essere un omaggio. Esatto, le grafiche sono molto belle, purtroppo vi dicevo io sono... io vi faccio fatica a leggere ma vi avevo riportato qua la schermata che aveva pubblicato Delphi sui suoi social riguardo anche alla grafica, insomma. Bello l'anulare, io l'ho preso appunto in edicola, molto bello, anche a me è piaciuto tanto, è poi molto breve, non sono nemmeno 100 pagine, 100 pagine tonde tonde. È una storia abbastanza inquietante, in cui si parla anche di feticismo, devo dire. Può essere una buona scelta, è sempre a tema Giappone, non l'ho letto ma l'ho inserito nel programma per il CB Book Club dell'anno prossimo, è un titolo piuttosto famoso, ombre giapponesi. Se vi piace il Giappone può essere sicuramente un ottimo titolo, ha anche una copertina veramente molto molto carina. Anche questo ha un prezzo, diciamo un po' in linea, 15 euro, sempre del catalogo, insomma, Delphi. Vi dicevo io ancora non l'ho letto, ne ho sentito però parlare sempre solo bene, e se vi incuriosisce, insomma, il Giappone può essere ottimo. Così come Tokyo Express di Matsumoto Seicho. Sono usciti diversi libri di quest'autore per Adelphi, ad esempio Un posto tranquillo, credo sia l'ultimo pubblicato, La ragazza del Kyushu. Quello che mi è piaciuto di più è Tokyo Express. Questa era un'edizione, tra virgolette, vecchia, adesso hanno fatto quella un po' più tascabile, però merita molto se vi piace un po' il crime. Questo è un autore che viene paragonato a Simenon, quindi lo ricorda in parte anche un po' Agatha Christie in questo titolo in particolare, quindi se è un genere che vi piace, io questo ve lo consiglio di cuore. Pensi si possa comprendere più o meno approfonditamente la letteratura giapponese contemporanea, pur non conoscendone il background culturale? Allora, comprendere magari fino a un certo punto, secondo me chi si avvicina magari alla letteratura contemporanea giapponese non cerca necessariamente, come posso dire, un approfondimento storico o socio-culturale, ma magari un'infarinatura, ecco, perché attraverso diversi libri si può avere sia uno spaccato un po' della quotidianità, ma appunto è una piccola parte, quindi a parte magari alcuni titoli che si avvicinano più al saggio, per intenderci, che magari puntano appunto ad approfondire, secondo me sia giusto un accenno, uno scorcio su quella che può essere la quotidianità, le tradizioni, il cibo e raramente anche un po' di politica o di economia, quindi secondo me si può comprendere e apprezzare anche se non si è informati al riguardo e anzi secondo me può essere un ottimo punto di partenza per poi andare ad approfondire, magari contestualizzare. Togia Express, bellissimo, tra i miei preferiti dello stesso autore. Anche per me è uno dei preferiti. Un altro titolo che non ho sotto mano, che mi è piaciuto molto, è invece anche questo molto famoso del catalogo Adelfi, L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. In questo caso ci avviciniamo al mondo della medicina, è una raccolta di casi che ha seguito l'autore. Molto interessante anche per chi non è fan, non è proprio super informato riguardo alla medicina, soprattutto ciò che riguarda il cervello. È interessante ed è scritto anche in un linguaggio molto comprensibile, anche per chi non è addetto ai lavori. Soprattutto dal punto di vista umano, perché comunque l'autore è medico, riesce a spiegare in maniera molto professionale, però allo stesso tempo umano, la condizione dei suoi pazienti, i vari sintomi, come si arriva alla diagnosi. C'è un bel approfondimento dietro, quindi secondo me è un ottimo titolo. non a caso è uno anche dei più famosi di Oliver Sacks, quindi ve lo segnalo per questo motivo. Per quanto riguarda invece in Audi, io vi ho messo qua una foto per farvi un po' capire le dimensioni, le ho anche riportate. L'ho confrontato al mio zaino che utilizzo praticamente tutti i giorni o comunque è quello che utilizzo di più per uscire, in cui ci metto anche tranquillamente il computer. Lo zaino in Audi è un po' più grande del Kanken, come potete vedere, però è molto più sottile. Io ce l'ho qua, ma dal video non so quanto si possa capire. è sicuramente più alto, leggermente più largo rispetto al Kanken, ma è veramente una sottiletta. Li riporta 8 cm circa, però insomma è abbastanza sottile, non è molto profondo. Anche in questo ci sta lo zaino, eh lo zaino, il computer, scusatemi, il computer portatile, però non è particolarmente imbottito. Ciao Alessia, grazie mille. Non è particolarmente imbottito, quindi la cosa che faccio anche col Kanken, che ha comunque un tessuto molto leggero, è di portarmi il computer sempre nella sua custodia imbottita, che comunque ci sta tranquillamente. All'esterno è in tela, non so se vi è capitato di prendere già i borsoni di qualche anno fa, il tessuto è bene o male lo stesso. Molto belle le spalline, perché sono leggermente imbottite, quindi non ti tagliano proprio la spalla, come se fossero delle cordine sottili, è abbastanza confortevole sotto questo punto di vista. Si chiude con dei bottoni automatici, ce ne sono due, insomma, a seconda di quanto si riempie lo zaino, è comunque comodo, si può tra virgolette regolare in questo senso, e poi sul davanti c'è un taschino, non è molto profondo, arriva più o meno a questa altezza qua. cerco di farvelo vedere, ma dal video si riesce il giusto. È molto carino, io ho deciso di prenderlo, con due titoli in Audi, un po' perché c'erano dei titoli che desideravo recuperare, ci sono tanti titoli, anche usciti recentemente, di autori giapponesi e non, che comunque mi interessano, e soprattutto stavo cercando uno zaino da uscita, tipo mare, lago, piscina, ne ho uno che però è piccolino, e non ci stanno due teli mare, ce ne sta soltanto uno, quindi pensando magari di uscire, ad esempio con mio marito, in questo ci stanno tranquillamente due teli mare, per telomare io intendo un asciugamano vero e proprio, quindi non un lenzuelino sottile, come avevano regalato anche qua qualche estate fa in Audi, era proprio tipo canovaccio, in realtà era sottilissimo, io mi porto proprio l'asciugamano, e ci sta tranquillamente dentro lo zaino. Belli, sono una salvezza per la schiena, piuttosto che avere la borsetta di lato, esatto, anche io preferisco di gran lunga lo zaino, in modo da poter distribuire il più possibile il peso su entrambe le spalle, e non segarmi una spalla sola, ecco. Un'altra cosa è il colore, io l'ho scelto beige, l'alternativa è un nero che è leggermente slavato, infatti sembra quasi un blu scuro, per una questione semplicemente di gatto, perché ogni superficie vagamente nera oscura, si riempie di peli di gatto, e lo so che è una cosa normalissima, però è molto difficile toglierli, e se devo passare tutto il tempo a preoccuparmi dei peli del gatto, di nuovo, lo so che è una cosa sciocca l'estetica in sé dello zaino, però ho preferito prenderlo chiaro, e ho un pensiero in meno, per quanto riguarda i peli del gatto, perché tra varie entesi appena portato a casa, lui si è messo a ciambellato subito sopra, come sempre. Quindi, niente, l'ho scelto per questo motivo qua. ci poteva far comodo uno zainetto in più, non era indispensabile, però tant'è. Per quanto riguarda i consigli, invece, partiamo con un autore che a me piace tanto, ovvero Kawamura Genki. Io ho letto sia Se i gatti scomparissero dal mondo, che Non dimenticare i fiori, entrambi mi sono piaciuti, per motivi, diciamo, diversi. Se i gatti scomparissero dal mondo, vede per protagonista un uomo che scopre di avere una malattia per cui a breve morirà, gli si presenta al diavolo che gli propone di allungargli la vita in cambio di rinunciare a qualcosa. E quindi lui vive un giorno in più della sua vita, però ad esempio in un mondo senza orologi o senza film, e così via. Anche io per i gatti l'ho preso beige, come ormai tutte le cose da vestire, comprese le magliette pampling. Anche ho iniziato a prendere le magliette più chiare, un po' perché ho l'impressione veramente di sudare il triplo con l'abbigliamento scuro, soprattutto quando fa caldo e c'è molto sole, e un po' perché riesco ad abbinare più facilmente i capi chiari. In secondo luogo, per i peli del gatto. Per quanto io mi passi il rotolo adesivo, non c'è nulla da fare. Ormai fanno parte della maglietta stessa. Non dimenticare i fiori, invece, è una storia che parla di Alzheimer. Il protagonista scopre che sta per diventare padre, ma allo stesso tempo che sua madre inizia a manifestare i primi sintomi dell'Alzheimer. Due storie che comunque portano delle tematiche molto importanti, nel primo caso il senso della vita, le cose veramente importanti, il legame con il gatto, perché poi il protagonista ha anche un gatto di nome cavolo, è molto molto carino. e nel secondo caso, di nuovo, vita, ma anche malattia, la difficoltà di accettare la malattia di una persona vicina, che comunque, tra virgolette, dà problemi. E in questo, la votare, secondo me, è stato molto bravo, perché è difficile essere diretti e sinceri e mostrare una realtà di questo tipo, in cui il protagonista quasi si vergogna della madre perché si dimentica le cose, non trova casa sua. Può sembrare crudele e fa male, no, vedere che qualcuno si vergogna della propria madre per questo motivo, come se fosse una sua scelta o colpa sua, no, la malattia. Però, penso che sia riuscito nel bene e nel male ad essere particolarmente incisivo, quindi sono due titoli che io vi consiglio caldamente in questo senso. Murakami, penso che ci sia veramente il mondo. tutti i libri, credo, di Haruki Murakami sono pubblicati dai naudi, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Io non ho letto tantissimo di questo autore, però due titoli letti abbastanza recentemente che mi sono piaciuti molto sono L'incolore Tazaki Tsukuro e i suoi anni di pellegrinaggio, chi mi segue da un po' ormai ne avrà una testa tanta perché cerco sempre di proporvelo. Io non ho mai letto romanzi giapponesi, gli autori hanno un modo di scrivere che ricorda i manga più autoriali o sono due mondi diversi? Dipende, dipende molto. Ci sono alcuni romanzi che ricordano un po' alcuni manga. In generale direi che sono due cose però diverse, dipende molto da quello che si vuole in realtà comunicare e raccontare. Per quanto mi riguarda ho trovato dei romanzi simili ad alcuni shoujo, ad esempio come si chiama Io sono un robot se non sbaglio edito da Edizionio e Gridare amore dal centro del mondo ma non ho ricordato un po' lo shoujo perché sono due storie ambientate a scuola e quindi ci sono diverse dinamiche che ricorrono anche nei manga scolastici. Per il resto non mi è mai venuto in mente di paragonare manga e romanzi probabilmente perché erano due modi di raccontare diversi le intenzioni dietro la scrittura erano diversi quindi per me almeno è stato così sicuramente in alcune cose soprattutto se si vanno a richiamare appunto dei temi simili o delle ricorrenze o delle tradizioni ci possono essere sicuramente dei punti d'incontro pensiero un po' critico sugli autori giapponesi premetto che ho letto solo la Yoshimoto che è diciamo un'autrice che piace molto agli occidentali perché ha uno stile rispetto ad altri autori tra virgolette più occidentale in alcuni libri giapponesi si parla di malattie o di morte a me rattristano un po' come tematiche non ci sono libri più allegri certamente ci sono anche libri più più allegri dipende molto dall'autore ma anche da storia a storia la Yoshimoto ha molto a cuore il tema della morte del dolore del lutto in alcuni suoi romanzi ci sono anche delle comparse un po' paranormali si parla anche di presenze di spiriti di fantasmi ma in realtà non è che tutti gli autori giapponesi parlino di morte o di sofferenza a me questo aspetto non dà tristezza ma anzi lo apprezzo e mi piace perché se trattato in un certo modo non è pesante almeno per quella che è la mia esperienza leggendo ad esempio hai riportato la Yoshimoto ciao Chiara grazie mille riportando la Yoshimoto è una delle mie scrittrici preferite perché il suo modo di raccontare di parlare appunto anche di tematiche tra virgolette pesanti a me non risulta tale non mi sono mai trovata con l'ansia o l'angoscia non mi sono mai ritrovata super triste per come raccontare le storie trovo che sia particolarmente delicata e sensibile quindi pur trattando temi importanti un po' pesanti a me non risulta pesante in alcuni casi però lo posso capire hanno un modo di raccontare forse un po' interiorizzato un po' introspettivo che può dare secondo me questa impressione però è anche un po' a livello di gusti cioè chi apprezza questo interiorizzare questo raccontare in maniera approfondita e toccare anche tematiche di questo tipo chi invece no tornando a Murakami non ho mai letto Murakami anche se è una vita che voglio farlo da quali libri mi consigli di iniziare comunque sto mando le tue live grazie mille Isan e sono molto molto felice allora come punto di inizio molte persone consigliano Norwegian Wood e tantissime altre sconsigliano Norwegian Wood io personalmente ti consiglio l'incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio è una storia che parla di amicizia in particolare il protagonista aveva un rapporto bellissimo con alcuni suoi amici ma da un giorno all'altro questi ultimi gli dicono senti non ti fare più vivo non ti vogliamo più sentire non siamo più amici punto non gli viene data alcuna spiegazione e lui nemmeno ci prova a chiederla e dopo 15-16 anni lui ancora si tormenta si chiede cavolo avevamo questa bellissima amicizia che cosa sarà mai successo e quindi dopo tutti questi anni decide di rintracciare i suoi vecchi amici e capire che cosa è successo in quel periodo è una storia quindi che parla molto di amicizia l'ho amato per questo perché mi sono rivista in parte nell'esperienza insomma del protagonista è secondo me un buon titolo da cui partire perché non è particolarmente onirico cosa che piace e non piace di Murakami è un aspetto che un po' divide secondo me questo titolo può essere un buon punto di partenza in alternativa leggiti un po' le trame dei libri se c'è qualcosa che ti ispira maggiormente parti da quello e chi se ne frega nel senso non c'è una regola non è una legge nessuno ti obbliga a leggere prima qualcosa e poi qualche cos'altro in colore Tazaki Tsukuro è stato il mio primo Murakami è una lettura molto scorrevole e piacevole e infatti anche a me è piaciuto tantissimo per chi invece magari ha già letto alcuni titoli di Murakami quello che consiglio è abbandonare un gatto non si tratta di fiction ma di una sorta di autobiografia possiamo chiamarla così l'autore parla di suo padre e del rapporto che ha con lui il titolo ha spaventato tante persone ma in realtà ve lo dico è succede proprio all'inizio non si tratta di spoiler si chiama abbandonare un gatto perché la storia Murakami parte proprio raccontando questo piccolo episodio che riguarda anche suo padre si erano ritrovati insomma con un gatto che non potevano tenere sono andati a lasciarlo tipo al fiume o comunque in un posto lontano ma poi il gatto è tornato indietro da loro quindi è una storia a lieto fine però è da qui che parte appunto Murakami a raccontare e parlare di suo padre è un piccolo racconto è molto interessante se appunto conoscete già l'autore perché secondo me si possono capire non dico alcuni riferimenti però si può capire un po' meglio l'autore e cosa molto bella è un'edizione illustrata io l'ho letto in prestito digitale se mai lo troverò usato sicuramente lo recupererò perché anche le illustrazioni sono veramente molto molto belle andando avanti ci sono due titoli che anche in questo caso io ve lo segnalo sono usciti per la collana la grande letteratura giapponese per il Corriere della Sera la cartella del professore è uscito proprio oggi se non sbaglio in edicola il gatto venuto dal cielo è uscito forse qualche settimana fa in ogni caso sono due titoli e naudi che mi sono piaciuti non fra i miei preferiti di sempre però sono due storie molto godibili la cartella del professore è una sorta di storia d'amore che ha a che fare molto anche con il cibo un interesse sentimentale che nasce fra una studentessa e un suo vecchio professore che si incontrano praticamente per caso in un bar dove sono soliti andare i due il gatto venuto dal cielo invece io l'ho iniziato a leggere perché ero incuriosita dal fatto che il gatto protagonista di questa storia si chiamasse Cibi come la mia gatta da cui ho preso in prestito poi il nome per Cibi is the way è tutto partito dalla mia gattona Cibi e anche in questa storia appunto c'è una gatta di nome Cibi non è vera e propria protagonista della storia ma ha un ruolo decisivo per quanto riguarda la coppia protagonista se non sbaglio sono due coniugi che entrano un po' nella routine e quindi ci sono un po' di dinamiche familiari e quotidiane che vengono analizzate due letture comunque molto tranquille molto piacevoli e per certi versi secondo me anche piuttosto estive devo dire altri in Audi adesso io ho preso come riferimento l'Odissea e l'Iliade perché sono fra gli ultimi forse che ho acquistato per quanto riguarda la categoria classici ma in generale se state puntando a un classico ci sono delle edizioni molto belle nel catalogo e in Audi ad esempio per quanto riguarda l'Odissea e l'Iliade a me sono stati consigliati tantissimo da tra virgolette chi è nel nel settore che ha fatto studi classici perché appunto mi è stato detto che sono delle traduzioni molto buone quindi a me è capitato di leggere altri classici al di là poi del fatto che mi siano piaciuti o meno di in Audi e la traduzione mi è sempre piaciuta nel senso che l'ho sempre trovata scorrevole e non mi ha dato mai problemi quindi può essere un'ottima occasione per recuperare qualcosa se appunto puntate allo zainetto altri titoli un po' di narrativa in generale che mi sono piaciuti sono ad esempio Cezil Beach adesso credo abbiano fatto una nuova edizione però anche in questo caso protagonista della storia è una coppia che si è appena sposata ma già la prima notte di nozze ci sono un po' di problemi che minano il rapporto Mio fratello rincore il dinosauro invece è una storia vera Giacomo Mazzariol parla infatti del suo rapporto con il fratello che ha la sindrome di Down una storia veramente molto molto tenera un po' un po' commovente di nuovo è stato molto sincero comunque l'autore nel raccontare il rapporto con il fratello non ha cercato di rendersi agli occhi del lettore un supereroe una persona chissà quanto buona brava eccetera ha raccontato il meglio e il peggio ecco della sua esperienza del suo rapporto con il fratello e poi per quanto riguarda invece Mogda Sobo un'autrice ungherese probabilmente la più famosa qui in Italia anche una delle più amate quello coletto io che è in catalogo e in Audi che vi consiglio è Via Catalin la storia si concentra su questa via Via Catalin per l'appunto e su quattro ragazzi da quando sono bambini a quando crescono e diventano degli adulti copre un arco temporale abbastanza ampio da metà anni 30 fino al 68 69 se non sbaglio quindi di mezzo si racconta anche come viene vissuta la guerra in Ungheria la persecuzione degli ebrei eccetera eccetera quindi è una storia da una parte di crescita di formazione per quanto riguarda i ragazzi con uno scorcio anche piuttosto storico in Ungheria quando scegli cosa leggere per non rischiare di sprecare tempo su un titolo mediocre e ti basi su analisi e recensioni di critici no devo dire che sono una persona piuttosto a istinto quindi se c'è magari un titolo che per trama mi incuriosisce tendo a leggerlo magari non lo acquisto lo leggo in prestito digitale se mi convince poi lo recupero in cartaceo oppure se lo trovo nel catalogo io ascolto anche molti audiolibri o l'abbonamento a Storytel quindi se lo trovo in catalogo gli do un'opportunità in questo senso in genere mi piace da una parte informarmi leggere alcune recensioni soprattutto di persone che so avere gusti più o meno simili ai miei ma dall'altra parte mi piace farmi un'opinione mia che sia positiva o negativa io non ho problemi poi a iniziare un libro e a non terminarlo quindi preferisco buttarmi se non ho la possibilità ecco non per forza acquistando il cartaceo ma appunto cerco magari di ripiegare se non sono troppo convinta su altre piattaforme come il prestito in biblioteca prediligo quello digitale per comodità però insomma il prestito bibliotecario o ad esempio gli audiolibri visto che ho l'abbonamento di Magda Sabo io ho poi in libreria due titoli che però non ho letto uno è piuttosto famoso quindi potrebbe essere un buon punto di partenza La Porta è stato amato tantissimo io ho preferito per adesso perché appunto ancora non ho letto La Porta via Catalin o altri titoli che però sono editi da un'altra casa editrice altro titolo che mi incuriosisce molto della scrittrice è poi l'altra Esther credo ci sia anche Il Vecchio Pozzo forse anche qualche cos'altro non mi viene adesso il titolo dell'altro dell'altro libro che secondo me è in catalogo in Audi comunque se siete curiosi di scoprire questa autrice può essere un'ottima opportunità via Catalin come vi dicevo io l'ho letto e mi è piaciuto molto altri titoli letti tra virgolette nel senso che le ricette della signora Tokue l'ho iniziato oggi perché fa parte del gruppo di lettura che abbiamo noi con il CB Book Club quindi ve lo segnalo nel caso qualcuno volesse aggiungersi o comunque insomma fa parte del catalogo in Audi quindi è giusto segnalarvelo è una storia veramente molto famosa ne hanno tratto anche un film se non sbaglio è incentrato su una pasticceria il cui proprietario è abbastanza svogliato e continua a lavorare per coprire i debiti sostanzialmente cerca una sorta di compagnia e si imbatte in questa signora che ha le mani leggermente rovinate Asia Capparella ciao grazie mille che si offre di dargli una mano soprattutto di fare la famosa marmellata di fagioli rossi lui all'inizio non è molto convinto proprio perché è una signora anziana teme che si possa stancare o non lavorare bene poi ha questo diciamo piccolo difetto alle mani che magari non è proprio il massimo da mettere come riferimento per il pubblico però in realtà è bravissima sono più di 50 anni che lei fa questo mestiere quindi alla fine decide di assumerla è una storia molto carina di nuovo ve lo segnalo uscirà anche per la collana la grande letteratura giapponese con il Corriere della Sera se non sbaglio il 27 di luglio comunque l'ultimo martedì di questo mese quindi nel caso sappiate che uscirà con la collana se qualcuno sta collezionando meno io ve lo segnalo visto il film gran titolo lento alla giapponese ma top io per adesso ho letto circa 50 pagine mi sta piacendo tantissimo proprio perché si prende un po' il tempo di raccontare almeno nel libro anche la preparazione di questa marmellata la cura la dedizione i giapponesi hanno molto questa cosa della cerimonia e del rituale e a me la affascina tantissimo quindi per adesso a me sta piacendo molto ma sono proprio all'inizio poi ho terminato giusto giusto ieri i sette killer dello shinkansen da questo libro ne faranno poi un film ho letto con Brad Pitt e Lady Gaga si tratta di un thriller barra crime come dice il titolo sullo stesso treno si ritrovano sette killer e succede veramente il finimondo è stata una lettura per me molto imprevedibile sono rimasta molto colpita in alcuni punti forse un po' lento sono più di 400 pagine quindi secondo me alcuni passaggi potevano essere diciamo velocizzati però nel complesso è una serie che mi è piaciuta ogni capitolo è raccontato da un personaggio diverso e le storie dei singoli personaggi si incastrano perfettamente è una cosa che ho apprezzato molto i protagonisti chiaramente sono tutti killer o comunque malavitosi non sono persone non sono brave persone ecco c'è ad esempio un ragazzo che fa le medie ma bullizza tortura è veramente tremendo a scuola con i suoi coetanei c'è un uomo che di nuovo ha un passato abbastanza turbolento che è lì per dare una lezione in realtà a questo ragazzino ma poi non va come sperava ci sono due colleghi i cui non mi ricordano degli agrumi che invece sono stati incaricati da una persona misteriosa che non viene svelata di accompagnare un bambino sul treno ma poi questo bambino muore non si sa come ne succede veramente una dopo l'altra e la cosa che ho apprezzato molto è che è un libro imprevedibile fino a quasi l'ultima pagina molto spesso i thriller crime quando arrivano verso la fine le ultime 70-50 pagine sono di una noia mortale questo invece è stato in grado di tenermi incollata veramente fino alla fine con alti e bassi come vi dicevo in alcuni punti secondo me è un po' lentino però mi ha sorpresa tanto ed è stata una lettura inaspettata i sette killer dello shinkansen mi incuriosisce molto è piuttosto particolare come titolo però per me ne è valsa la pena io ho sempre timore di non riuscire a comprendere la validità oggettiva di un'opera qualsiasi cosa legga cerco di sforzarmi di comprendere se la scrittura è buona se i personaggi sono ben caratterizzati o hanno un loro arco narrativo coerente ma alla fine finisco sempre col far riferimento ad analisi di terzi c'è da dire che comunque volendo anche essere il più oggettivi possibili per me almeno la lettura rimane qualcosa di soggettivo ognuno ha il suo gusto personale quindi anche se un'opera viene apprezzata da critici o da tante persone può essere che non mi piaccia quando non incontri i miei gusti e non c'è nulla di male in questo alla fine io quello che cerco di fare è leggere o per informarmi o per distrarmi o per divertirmi per viaggiare con la mente per imparare qualcosa di nuovo insomma ci sono tanti motivi diversi per cui scelgo di leggere magari determinati titoli quello che accomuna è il tra virgolette divertimento nel senso leggere per piacere non per dovere per quanto mi riguarda titoli che non ho letto ma che erano nella mia wishlist che quindi condivido con voi e poi vi faccio vedere i due titoli che ho acquistato per prendere lo zaino sono ad esempio Sorgo Rosso di un autore cinese io ho letto veramente pochi titoli di letteratura cinese quindi questo era uno di quelli che mi incuriosiva particolarmente parlando poi sempre di Giappone la neve di Yuzawa o fiabe giapponesi che è uscito piuttosto recentemente in questa edizione diciamo attascabile prima aveva un prezzo di copertina di 32 euro adesso 16 quindi ci può stare in linea generale devo dire che sono lievitati non poco i prezzi dei libri ultimamente quindi faccio questo piccolo riferimento perché è una spesa è una spesa per quanto mi riguarda quindi devo sempre fare un po' un po' i conti però mi incuriosiva particolarmente perché sono fiabe che vengono da diverse regioni del Giappone quindi se vi incuriosisce come aspetto può essere interessante il silenzio delle ragazze invece è un titolo che si rifà all'epica e alla mitologia greca mi incuriosiva perché è un altro aspetto che a me affascina molto al di là del Giappone quindi lo avevo inserito in un wishlist per questo motivo ho finito poi per acquistare altro un titolo che di nuovo molto probabilmente farà parte del programma del gruppo di lettura del cbbook club per l'anno prossimo forse sto partendo un po' in anticipo ma in realtà sto facendo un po' di mente locale sembra molto interessante fiabe giapponesi eh sì è appunto una raccolta scelta di storie di vario genere che includono in parte il folclore le tradizioni deve essere veramente molto molto interessante io non credo di aver letto nulla al riguardo un titolo che tra virgolette si avvicina forse è storie di fantasmi giapponesi che è edito da da lippocampo è un'edizione illustrata c'è questo aspetto sempre un po' magico fra finzione e realtà che mi incuriosisce molto tra l'altro una cosa che a me piace tantissimo del giappone è questo contrasto secondo me bellissimo fra la super modernità e la tradizione antica che convivono tutt'oggi nella quotidianità è molto molto bello a proposito di giappone chiaramente quello che ho recuperato io è stato innanzitutto questo libricino il paese delle nevi di Kawabata Yasunari io di questo autore ho già letto diverse opere da ultimo la casa delle belle addormentate che era appunto nel programma del gruppo di lettura del cibi book club che non mi è piaciuto ho letto poi mille gru che è una delle sue opere forse più famose che mi è piaciuto invece tanto così come dente di leone un racconto purtroppo incompiuto che comunque secondo me merita mi è piaciuto abbastanza quindi sono anche molto curiosa di leggere questo titolo è un altro libricino piccolo quindi a me piacciono i libri piuttosto brevi l'altro titolo ha sempre a che fare con il giappone chiaramente ha sempre a che fare con il giappone ma non è di un autore giapponese shock numero 2 giappone ma non è di un autore giapponese ebbene sì laurema e messina con le vite nascoste dei colori questo è uscito piuttosto recentemente in Audi gli ho lasciato ancora la fascetta ma finita questa diretta sicuramente la cestinerò non sono grande fan delle fascette l'unico frangente in cui tendo a conservare le fascette quando non ho una disposizione un segnalibro e quindi le utilizzo come segnalibro il paese delle nevi ha fatto vincere il nobel a kawabata vedi ecco perché allora il più importante romanzo di kawabata e pensare che ho fatto una fatica assurda a trovarlo in libreria stavo per perdere le speranze veramente tornando invece a Laura Imae Messina è un'autrice piuttosto conosciuta qua in Italia è italiana ma vive in Giappone da diverso tempo sposata una famiglia comunque in Giappone di suo io sto leggendo Tokyo tutto l'anno dico sto leggendo ormai da mesi perché è un libro diviso per mesi dell'anno quindi non sto seguendo proprio ogni mese a seconda di dove ci troviamo ma me lo leggo un po' alla volta perché me lo sto gustando lentamente mi piace l'atmosfera è come se passeggiassi in mezzo alle strade del Giappone fra appunto tradizione e quotidianità di questo invece le vite nascoste dei colori di nuovo ho sentito parlare molto molto bene quindi sono curiosissima di affrontarlo penso che lo leggerò proprio quest'estate in una scorsa diretta riguardo alle uscite insomma del mese vi avevo detto ma sì lo recupererò quando uscirai in edizione tascabile in realtà questa è già l'edizione flessibile a un prezzo di 18,50 euro non ho resistito ero anche iscritta mi ero messa in lista per prenderlo in prestito digitale ero tipo sessantesima centoventesima non mi ricordo nemmeno più un numero comunque esorbitante quindi mi sono messa il cuore in pace mi sono decisa a recuperarlo perché mi sono detta lo leggerò subito ho tanti libri da leggere in libreria quindi se acquisto qualcosa mi dico se l'acquisto però lo devo leggere subito o almeno nel breve periodo perché appunto non è che scade non è che dopo non lo si ritrova più come come libro quindi è stato uno sfizio che mi sono voluta togliere dai vi auguro una una buona serata come al solito grazie per la per la compagnia e di nuovo spero che possano esservi utili questi questi consigli buona serata e grazie per la compagnia ciao ciao